Un viaggio in aereo decisamente poco piacevole per Eletra Lamborghini che sul volo di ritorno da Miami verso l'Italia ha raccontato di aver accusato un forte malore. Ho vomitato senza interruzione, mai successo, spiega nelle storie Instagram. La cantante ha iniziato a sentirsi male poco prima di imbarcarsi. Forse la peggiore giornata della mia vita, scrive, ho iniziato a vomitare e avere l'attachicardia. Dopo aver dormito per 17 ore ha fatto sapere di stare meglio. Mi sa che ho preso un virus, spiega i fan. Non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada, sinceramente, e nemmeno in interrottamenti in aereo. Giuro, è qualcosa che non auguro a nessuno. Ora sto tornando a casa barcollante e senza energie. Spero di stare meglio il prima possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.